Ciao a tutti e benvenuti. Questo video per augurarvi con tutto il mio cuore un buon Natale, delle buone festività natalizie, nella speranza che voi possiate trascorrere delle buone giornate in serenità soprattutto, in pace, tranquillità e serenità, circondati dagli effetti più importanti che voi avete che riempiono sempre il nostro cuore. Mi auguro che il nuovo anno possa essere per voi motivo di nuove sfide e per la vostra evoluzione vocale un anno ricco anche di soddisfazioni e che possiate avere tante possibilità per potervi esprimere con questo meraviglioso strumento vocale che è proprio la nostra voce. Desidero cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi per il sostegno che avete dimostrato anche in questo anno attraverso le vostre riflessioni, le domande, gli spunti, gli apprezzamenti che mi date. Buone feste e un buon anno a tutti. Ciao!